e quello cos'è aspetta non è uno di quelli di eddy ormai è storia non Vale, vale Ah, stagliare male Sei morto Stagliare Va bene Uccidetelo Ammazzatelo Sei morto Sei morto Sei morto Ammazzatelo E da questa parte Bene Ammazzatelo 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 Può tornare utile. 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 E...? Voilà. È vivo. Non lo so, Nate Voglio dire Tu ti fidi di quest'uomo Non sembra affatto che lo stiano tenendo sotto te Lo so Sì, sembra strano Ma no Sally ha tanti difetti Ma non ti pugnala le spalle Da che parte andavano? Eh, nord Sì, verso le montagne Bene Deve essere al monastero Andiamo E se poi venisse fuori che lavora con loro? O lo salviamo Oppure lo riempiamo di botte Ah, al diavolo Meglio pestarlo comunque Oddio Eccolo lì Grazie Grazie Grazie. Come è successa una cosa del genere? Vedi quei segni? Qualcuno ha messo qui tanta polvere da sparo da far saltare tutto in aria. Attenta dove metti i piedi. Alcune tavole sono davvero aperte. No, non ce la faccio! Dammi l'altra mano! Devi lasciarlo andare! Stammazione! Ok. Merda! È tutto a posto. Forza! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.